con federico buffa che dopo aver raccontato diversi sportivi della dell'italia e del mondo passa attraverso gigi riva la prima domanda è perché anche se è un po scontata beh tra l'altro è un anniversario il 2020 è un anniversario del cagliari e dello scudetto del cagliari il più sorprendente scudetto della storia del calcio italiana insieme a quello del verona è un viaggio nel tempo come spesso succede nelle cose che devo fare mi ricordo che gianni per era scrisse che quel scudetto del cagliari mise per la prima volta la sardegna all'interno della repubblica italiana un po forte che però ha un senso è stato bellissimo andare a girare a cagliari perché i ragazzi di oggi mettono in discussione tante cose e ragazzi è un termine piuttosto ampio e vale anche per i quarantenni ragazzi mentalmente tali e uno di loro mi ha detto io una volta mi sono permesso di dire una cosa che non dovevo dire perché mio padre mi si è girato contro come dire non t'azzardare mai più a dire una cosa così su di lui e il quarantenne comprende che è successo qualcosa che non si può spiegare visto con le chiave interpretative di oggi l'idea di questa dissertazione su di lui è proprio questa di provare a far immaginare a un ragazzo di vent'anni di oggi che cosa sia stato questo giocatore nell'italia di allora e nella sardegna di allora è immaginabile nel calcio di oggi che possa arrivare un riva che dice no a delle offerte stratosferiche per rimanere in una realtà come Cagliari. La quantità di cose inimmaginabile oggi legate a lui è ancora molto più lunga di quella principale che quella che ha appena detto.